E direi che a questo punto possiamo cominciare ad affrontare il tema della sera, il personaggio di Salah, cioè Musa al-Sadr, l'imam che scomparve. Mai come in questa occasione potremmo dire che la fine è nota, cioè nel senso che noi parliamo di un personaggio che è scomparso nel vero senso della parola, cioè di cui si sono perse le tracce in un giorno preciso, il 31 agosto 1978, sulla sua fine, cioè la fine è nota ma nemmeno poi tanto, nel senso che le ipotesi ci sono state diverse, vedremo magari verso la fine di questo racconto quali sono, però in questa occasione ci interessa concentrarci invece sul suo percorso di religioso, di politico, di pensatore, di personaggio pubblico nel Libano degli anni 70. Si corre il rischio che vanno separati alcuni personaggi, da noi per esempio è stato per molto tempo per Pasolini, che una fine tragica e misteriosa sia stata a un certo punto discussa, commentata molto più della sua vita, cioè nel senso che ci sono tante di quelle cose importanti nel suo percorso che invece vengono addirittura un po' offuscate dal clamore o dal mistero legato alla loro scomparsa. Questo è un po' il caso di Musa al-Sadr, perché anche chi non lo conosce benissimo sa che appunto è sparito, Francesco dice sicuro non si è occultato, sicuramente ci sono delle analogie, qui con il fatto che parliamo di Islam Shiite e quindi del dodicesimo imam, che come sapete per gli sciiti si è occultato, in realtà non è mai morto. Musa al-Sadr a un certo punto scompare, però cerchiamo di capire prima chi è stato Musa al-Sadr. Allora, lui nasce a Qom in Iran il 4 giugno 1928, strano una volta come la storia poi si diverta con certe date, stessa data del giugno o il giorno dopo la morte di Khomeini, ovviamente parliamo di 89, muore Khomeini. Lui nasce a Qom in un quartiere storico di Qom, appartiene alla famiglia Sadr di Jabal Amel in Libano, cioè è un ramo della famiglia Musavi che risale a Musa ibn Jafar, il settimo imam Shiita e infine al profeta islamico Maometto attraverso sua figlia Fatima, cioè il termine arabo che significa la gente della casa, è un termine in cui si riferisce alla famiglia del profeta, quindi a Maometto, la figlia Fatima, il genero Ali e i loro discendenti. Poi in senso più ampio si riferisce a tutti i discendenti del profeta e di suo zio Abbas, che sono considerati comunque della famiglia di Maometto. Questo perché? Per dire che il nostro personaggio nasce a un certo, potremmo dire, lignaggio religioso, cioè appartiene a una famiglia molto importante, tra i religiosi sciiti, che proviene dal Libano. Quindi lui nasce in Iran, ma la sua famiglia è originaria del Libano. D'altra parte, questo è una cosa importante da sottolineare, che questo legame è un legame antico. Se noi guardiamo, adesso potremmo fare altri casi, altri esempi, cioè tra alcune corrispondenze di alcuni personaggi religiosi tra Libano e Iran, si nota spesso che sono imparentati da loro, poi anche attraverso matrimoni, diciamo più o meno combinati, via dicendo, ma c'è un motivo, perché all'inizio, quando la dinastia safavide, dopo il 1501, decide di convertire l'Iran, che fino a quel momento era sunnita, allo sciismo, scelta assolutamente politica, come abbiamo visto altre volte, cioè dettata dalla volontà di distinguersi dall'impero ottomano sunnita, i sovrani safavidi fanno arrivare in Iran i religiosi sciiti, perché devono convertire la popolazione. Quindi è un progetto di conversione culturale, un progetto di propaganda religiosa, potremmo dire. E quindi i primi imam, i primi religiosi sciiti, anche di un certo livello, vengono dal Libano, quindi dal Libano all'Iran. Parliamo del XVI secolo. Nella storia poi del nostro personaggio, vediamo che lui, già dalla sua giovinezza, cioè dalle prime decisioni in campo di studi, è un personaggio decisamente atipico e anche coraggioso, perché lui ha il primo diploma, la sua prima certificazione di giurisprudenza islamica, da Rajat al-Ijtiyad, detta così. Però dopo fa una scelta che per l'epoca è abbastanza clamorosa, cioè si scrive, va a Terane, si scrive alla facoltà di economia, e si laurea in economia nel 1953. Quindi è uno dei primissimi da avere sia un corso di studi religioso, sia uno, come potremmo dire, secolare, tradizionale, civile, si laurea anche in economia. Nel 1954, l'anno successivo, si trasfece a Najaf per completare gli studi ideologici. Dobbiamo tenere presente che Qom e Najaf, e questo vale allora, cioè vale allora negli anni 50, ma vale ancora oggi, sono i due grandi centri scivili, Najaf in Iraq e Qom in Iran, e lui decide appunto di andare in Iraq per completare il suo corso di studi. In questo periodo, cioè negli anni, nella sua prima permanenza in Iraq, viaggia in Libano, ritorna in Libano, va a trovare la sua famiglia che ha Tiro, e si lega, in quelle occasioni, alla guida dei musulmani scivili libanesi, Abd al-Hussein Sharaf al-Di Musavi, di cui prenderà anni dopo il posto. Cioè, comincia già allora, è militare relativamente giovane, ad intraprendere così, a stabilire un legame forte con quella che poi è la sua terra d'origine, il Libano. Nel 1958 succede una cosa importante, in Iraq c'è un golpe, la monarchia di Faisal II viene destituita dal re e il primo ministro vengono condannati a morte, vengono giustiziati, e Musa al-Sad ritorna in Iran. Questo è un primo passaggio. Nel 1959, quindi appena un anno dopo, lui però da Com va di nuovo in Libano, si riferisce a Tiro, e lì diventa un emissario dell'Ayatollah Burujerdi e dell'Ayatollah Musin Al-Aqim. Allora, l'Ayatollah Burujerdi è in quel momento l'Ayatollah è il religioso sciita più importante in Iran. È il predecessore di Khomeini, per intenderci. Ha una, come dire, una visione anche della poligia, del rapporto alla religione politica, completamente diversa rispetto a quella che sarà quella di Khomeini. È, diciamo, quietista, ha buoni rapporti con lo Shah, e allo stesso modo anche ha buoni rapporti con gli shidi libanesi e viene inviato appunto lì Musa al-Satar per, diciamo, come emissario di Burujerdi. Qui comincia il grande lavoro, diremmo, soprattutto politico, in un certo senso di Musa al-Satar, perché lui diventa anche abbastanza rapidamente una figura di riferimento per tutti gli shidi libanesi che in quel momento sono una minoranza diciamo svantaggiata, diremmo oggi, marginata, soprattutto politicamente e anche economicamente. Ed è qui che lui prende il termine di imam. Cioè, sapete che imam è colui che guida la preghiera, in realtà gli imam sono dodici, quindi il termine, diciamo, imam in questo senso è un termine un po' volgarizzato, un po' come sarà per Khomeini, Khomeini è ricordato come imam Khomeini, anche l'aeroporto, non si chiama così, ma non è uno dei dodici imam. I dodici imam sono quelli che terminano appunto con il dodicesimo, che è quello occultato, e sono loro i dodici del, come dire, dello shismo duodecimano. Però, questa connotazione, questa denominazione di imam vuol dire che chiaramente lui ha conquistato una fiducia, una popolarità, un carisma all'interno degli shidi libanesi che è decisamente notevole. E qui appunto che coltiva la sua leadership. Negli anni diventerà alla fine a capo del Supremo Consiglio Islamico shiita, che è un organismo all'interno del Libano creato appositamente per aumentare il peso della comunità nelle decisioni politiche. però l'aspetto fondamentale per capire Musa Sadr è che lui non è rispettato soltanto dagli shidi, cioè lui diventa il leader, la figura carismatica religiosa, di una minoranza, ma riesce a conquersare la fiducia anche delle altre comunità del Libano. Sapete che il Libano è un un paese di una multiculturalismo, una composizione confessionale anche molto problematica, ancora oggi sappiamo quanto sia complicata, sono qui a fare la storia del Libano anche perché sicuramente ci sarebbe qualcuno molto più bravo di me a farla, però Musa Sadr riesce a lavorare con un lavoro potremmo dire oggi oggi va di modo il termine empowerment, questa cosa di lavoro, di inclusione, di sostegno all'ingresso nel mondo del lavoro e lui soprattutto sia a sostegno di chi è svantaggiato anche dai conflitti interni, dalla guerra, dalla povertà, ma riesce ad avere nonostante sia in un ruolo contesto conservatore come quello in cui lui si muove anche una forte spinta all'integrazione sociale e lavorativa delle donne, qui per esempio lo vediamo che è l'innovazione di una scuola per infermiere vedete che sono anche vestite in modo che oggi impensabile anche per l'Iran voglio dire di lui che al momento se non sbaglio questa è la consiglia dei diplomi alla fine di questa scuola e ha un rapporto di dialogo molto fruttuoso con i cristiani maroniti lui chiede ai cristiani maroniti di rinunciare a una parte del loro potere però vuole che gli sciiti finalmente entrino nella vita politica del paese ma lavora incessantemente per mantenere relazioni pacifiche tra i gruppi cioè la sua non è una posizione settaria di conflitto tra le varie comunità tra l'altro lui in questo momento quello che vedete con Nasser cioè quindi lui aveva come dire era un personaggio che viaggiava aveva possibilità di essere accolto nelle cancellerie nelle presidenze nelle corti insomma di buona parte dei paesi del Mediterraneo del Medio Oriente ma non solo anche dell'Africa e quindi in quegli anni ha le ottime relazioni anche con anche con l'Iran cioè lui ritorna anche in Iran allora c'è ancora lo Shah ricordiamo con l'Iraq la Siria Arabia Saudita viaggia anche in Europa in Africa in Asia per esempio nel 75 visita la Francia incontra Valeriy Chisgaard Esten nel 77 partecipa alla conferenza islamica a lavoro in Pakistan è insomma un personaggio che ha da metà degli anni 60 in poi ma anche prima diciamo dai primi anni 60 in poi uno spessore internazionale qual è un passaggio importante? è un passaggio decisivo anche per la storia poi di tutto il Medio Oriente e del Libano in particolare la nascita di Amal cioè è uno dei fondatori del cosiddetto movimento dei diseredati l'obiettivo dell'emancipazione dei scidi libanesi nel 75 di fronte alla crescita delle tensioni in Libano che poi porteranno alla guerra civile organizzano la sua milizia armata però questa è la bandiera di Amal che appunto è quello che viene considerato in genere l'antenato il padre di Hezbollah Hezbollah nascerà dopo su chiaro impulso imitazione sostegno iraniano della Repubblica Islamica ma qui siamo ancora prima Al-Sadda però non vuole che questa milizia sia una milizia aggressiva sia soprattutto uno strumento a cui si compi di autodifesa questo sarà un capitolo molto molto delicato in questo momento qui è il caso di fare un paio di fermarci un attimo in Libano transitano vivono e si stanno formando anche molti altri iraniani che sono gli oppositori al regime dello Shah scusate che bevo un secondo due su tutti sono Mostafa Chamaran e Sadeh Gopzadeh Gopzadeh ne abbiamo già parlato ricorderete una figura tragica misteriosa se vogliamo anche in parte romantica il rivoluzionario che poi finirà giustiziato dalla stessa Repubblica Islamica per tradimento dopo esserne stato ministro degli esteri dopo essere stato residente del direttore della radio televisione Mostafa Chamaran è un personaggio non meno importante che probabilmente è un po' trascurato almeno in Occidente ma ebbe un ruolo importante soprattutto dal punto di vista militare era un fisico lavorato in fisica studiato negli Stati Uniti e in quegli anni il Libano si sta attrezzando si sta organizzando sta addestrando anche una sua milizia per una rivoluzione armata contro lo Shah e in effetti un ruolo lavorando nella fase proprio terminale finale della rivoluzione poi Chamaran morirà durante la guerra con l'Iraq tra l'altro tutti quelli che conoscono anche qui la toponomastica di Tehran e anche delle grandi città iraniane questo nome suonerà comunque familiare anche se magari non conoscono il personaggio la Chamaran è una strada importante lunghissima di Tehran una specie di grande tangenziale perché sono importanti questi due personaggi perché Musa Sadr e Chamaran sono stati la spina torsale della rivoluzione iraniana e non si può parlare della rivoluzione iraniana senza menzionare queste due persone l'idea poi di fondo vedremo quanto è vera è che anche Musa Sadr sia stato un personaggio importante per la rivoluzione iraniana non soltanto la storia del Libano ma anche per l'Iran però sa di fatto che questi sono personaggi che lui conosce frequenta con cui opera e su cui ci sono anche molti misteri e molte cose che andrebbero raccontare ma lo vedremo anche in altre situazioni bisogna precisare che è grandissima la distanza tra un personaggio come Musa Sadr e come Ni io ho messo questa foto qui non perché semplicemente così è come dire particolare che quello vedete qui che fuma un caffè con altre persone un atteggiamento difficile immaginare nella stessa situazione come Ni e qui vedete che a fianco a lui è Gotpsade appunto il personaggio di cui abbiamo parlato poco tempo fa pochi istanti fa cioè l'altro iraniano in quel momento rivoluzionario e in esilio e che si sta preparando per per abbattere il regime dello Shah qual è il punto essenziale che Musa Sadr non crede nella vela iate faghidi di l'all'arcomini cioè lui non crede nel governo del giure consulto è un il suo islam politico è più in linea con quello appunto dei suoi dei margietta glit cioè delle fonti imitazioni della sua epoca quando appunto abbiamo detto Burro Gerdì oppure Dabdari Hakim cioè è per una distinzione tra politica e il religio sebbene appunto lui veda i religiosi come e se stesso anche come attore politico ma non crede in un governo dei religiosi questo è molto molto importante d'altra parte il suo percorso il suo pensiero religioso è molto diverso da quello di Khomeini lui partecipa alla proclamazione di Papa Paolo VI nel 63 lui ha seguito gli anni precedenti e anche allora il concilio ecumenico Vaticano II che ha una influenza su di lui e lui è l'unico dignitario musulmano che viene invitato ufficialmente alla proclamazione di Paolo VI e ha ebbe in quegli anni un rapporto vicino molto molto importante con la Chiesa Cattolica qui c'è un sermone che lui tiene nella Chiesa dei Cappuccini a Beirut il 18 febbraio 1975 vi leggo testualmente insomma quello che disse o uomini e donne credenti troviamo allora un punto d'incontro negli esseri umani sul piano degli esseri umani di ogni essere umano ognuno deve essere infatti oggetto delle nostre parole e della nostra azione quelli di Beirut quelli del sud quelli dell'Ermel quelli dell'Aqar quelli delle periferie della stessa capitale da Carantina a Hill al Sulum nessuno è al di fuori di questa occasione né messo da parte né classificato difendiamo perciò gli esseri umani del Libano affinché possiamo difendere questo paese il paese dell'essere umano pegno della storia e pegno di Dio lui tra l'altro sosteneva diventato famoso lui sosteneva che i mullah sarebbero dovuti andare a predicare nelle chiese e i predi cattolici nelle moschee aveva una visione anche abbastanza scandalosa anche per molti musulmani dell'epoca sa di fatto che proprio in quegli anni lui cerca in tutti i modi di adoperarsi di esporre anche la propria persona di farsi garante per fermare la spirale di violenza che sta attraversando il paese nel 74 cerca di fermare appunto la guerra che oramai sta per scoppiare iniziando un digiuno un sciopero della fame in una chiesa di Beirut in quell'occasione viene visitato da dei libanesi di tutte le fazioni sia i cristiani sia i musulmani vanno a trovarlo anche gli asserarafate il ministro degli esteri siriano alalim haddam si forma un gabinetto di unità nazionale che era però vita breve però lui in quel momento riuscisse pure per poco a fermare la guerra civile però il problema di quegli anni il problema del Libano di quegli anni oggi è un po' difficile raccontarlo come dire con la prospettiva in cui allora anche le cronache seguivano quello che accadeva tutti i giorni perché in Libano si era rifugiato l'OLP di Arafat e lui durante quegli anni ebbe dei rapporti non semplici né con l'OLP cioè né con Arafat né con la Siria infatti Musa Sadr si schiera contro la divisione del paese e cerca di promuovere una coesistenza pacifica dalle varie fazioni libanese e in questo cerca anche di controllare appunto le milizie scite al di fuori di non coinvolgerle come abbiamo visto in un confronto settario con l'OLP ha un rapporto ambivalente perché da una parte è solidale con la causa palestinese non potrebbe essere altrimenti però non vuole e teme come poi sarà che le basi dell'OLP in Libano usate per per azioni contro Israele poi siano oggetto di rappresaglie e di intervento da parte di Israele come appunto poi sarà una famosa operazione pace in Galilea anche successivamente quindi è esattamente quello il pericolo il grosso pericolo ugualmente il rapporto con la Siria è un rapporto problematico perché lui cerca di mantidi non vuole assolutamente che il Libano diventi un protettorato della Siria e anche qui per una questione anche confessionale gli alawiti che già allora con Assad padre governavano la Siria e trovavano poi nella comunità sciita libanese un potenziale alleato naturale lui cerca però in tutti i modi di salvaguardare l'indipendenza nazionale del Libano infatti nel 78 una delle ultime sue azioni che riesce a fare visita la Siria si incontra con il presidente Afr al-Assad e discute le questioni inerenti alla situazione interna del Libano è ovviamente un percorso a ostacoli e sempre sul filo veramente da rischio qui lo vedete insieme ad Arafat ma ovviamente la sua disposizione era molto molto complicata e con Arafat e con l'Op non aveva indubbiamente un grandissimo rapporto questo è la religione al servizio dell'essere umano è il titolo anche del testo del libro più importante questo se non sbaglio è disponibile anche in italiano vi leggo soltanto alcuni passi per capire un po' meglio il pensiero le religioni erano una sola perché la Genesi il Dio è una e il fine l'essere umano è uno e il percorso questo creato è anch'esso uno quando abbiamo dimenticato il fine e ci siamo allontanati dal servire l'essere umano abbiamo dimenticato il Dio ed ecco che lui si è allontanato da noi ci siamo divisi in gruppi e il male è stato gettato tra di noi così ci siamo trovati in disaccordo frammentando l'unico creato servendo interessi particolaristici adorando divinità diverse da Dio e abbiamo logorato l'essere umano che è finito con il lacerarsi ritorniamo alla via ora ritorniamo all'essere umano perché Dio stesso ritorni a noi ritorniamo all'essere umano affritto dal tormento affinché ci possiamo salvare dal tormento divino troviamo il nostro punto di incontro nell'essere umano oppresso logorato e lacerato affinché possiamo incontrarci in ogni cosa e incontrarci in Dio di modo che le religioni siano una questo è è uno dei dei brani più importanti di Musa al Sadr che racchiude un po' il suo il suo credo il suo il suo messaggio spirituale che però era anche il suo messaggio politico come abbiamo visto e qui arriviamo al momento cruciale cioè la sua scomparsa perché noi oggi ancora non abbiamo una 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 verità storica nemmeno processuale cioè non non c'è nessuno ci sono tante ipotesi diverse e o meglio non tante ci sono due tre e negli ultimi anni una in particolare ha preso un po' più terreno vediamo quale lui il 31 agosto 78 si rega in visita ufficiale in Libia accompagnato da due collaboratori Sheikh Muhammad Yacoub e Abbas Badreddin l'obiettivo di questa risa è incontrare il leader libico Muhammad Gheddafi e poi dopo dovrebbe andare in Italia per una conferenza se non sbaglio si tratta di una conferenza sull'immigrazione a Roma però i tre scompariono cioè a Roma non arrivano non arriveranno mai nell'albergo prenotato a Roma ma nella compagnia aerea potrà confermare che loro erano saliti su quell'aereo e quindi di fatto non c'è nessuna verità l'ipotesi più accreditata è quella che siano stati uccisi in Libia cioè che sia stato Gheddafi a farli fuori però su questo forse non ci sono grandi dubbi cioè che probabilmente l'unico posto in cui siano stati è stata la Libia però perché si erano stati fatti fuori qui sono state ricostruzioni alcune ma anche un po' forzate cioè che al termine di un alterco con Gheddafi in un accesso di Ira Gheddafi li abbia fatti arrestare e poi uccidere i motivi dello sconto sono stati diversi per alcuni si trattano di dispute teologiche altre su questioni politiche sulla Palestina e molte cose diverse qualcun altro dice che in realtà qui giustamente c'è stato a Roma sul volo arrivano all'Italia arrivano i bagagli però anche su questo questo è un punto però loro non arrivano mai anche lì ci sono supposizioni che fosse una ricostruzione fosse una per sviare la pista Massimo che chiede riguardo la scomparsa è emersa qualcosa di archivi libici dopo che Davide gli archivi no dalle confessioni dalle ricostruzioni dai tentativi anche ufficiali iraniani di avere una verità qualcuno avrebbe detto appunto che comunque sarebbero stati uccisi sarebbe stato ucciso al Sadr in Libia però su una vera ricostruzione attendibile con delle prove non c'è stata qualcuno suggeria che fosse stato l'olpa richiedere un'eliminazione di Sadr quindi diciamo che da parte di Arafat ci fosse stata questa questa pressione l'ultima diciamo l'ultimo l'ultimo filone l'ultimo l'ultimo tentativo l'ultima ipotesi è che in realtà forse in tutto questo il filone iraniano non è del tutto estraneo e non del tutto innocente cioè qualcuno ipotizza che in realtà tra la fazione di Comini ricordiamo siamo al 31 agosto 78 la rivoluzione non ha ancora vinto stiamo per entrare nelle settimane e nei mesi cruciali poi per la caduta dello Sciala vittoria di Comini ma soprattutto in un libro uscito nel 2016 io qua vi linko anche un articolo che potrebbe essere interessante per leggere e ricostruire un po' il tutto qualcuno ipotizza che un ruolo non indifferente lo abbia avuto Besti Besti che era collaboratore di Comini tra l'altro con un passato ad Hamburgo in Germania allora molto attivo poi anche nella costituzione stessa del partito proprio di Comini avesse esercitato un'influenza su Gheddafi affinché liquidasse affinché si sbarazzasse cioè uccidesse Sadr che diciamo non era amatissimo in Iran cioè non era amatissimo da questa parte dalla parte appunto di Comini tanto che correvano voci anche così non ho mai provato e con cui qualcuno sosteneva che in realtà Sadr fosse alzato degli occidentali fosse pagato dagli americani o fosse comunque d'accordo con lo Shah addirittura d'altra parte lui aveva incontrato lo Shah in uno dei suoi viaggi quando nel periodo libanese quindi in realtà la stessa Repubblica Islamica che in un certo senso poi chiede la giustizia chiede la verità su questo caso non è detto che coloro che poi hanno governato il paese che poi sono andati al potere nel paese in realtà ne sappiano più di quanto dicano di quanto abbiano mai ammesso cioè che in realtà questa figura non fosse un reale alleato dei rivoluzionari di quella fazione dei rivoluzionari vediamoci sempre che la competizione poi sarà feroce e veramente con dei risvolti inaspettati abbiamo visto appunto anche Godzadeh che fine poi farà appena nell'82 quindi insomma nemmeno tre anni dopo la vittoria della rivoluzione sarà giustiziato dalla Repubblica Islamica stessa quali sono però le conseguenze perché poi al di là di tutto come dire tutte le ipotesi i complotti che possiamo immaginare le rivelazioni la speranza di avere come dire una verità perlomeno parziale di quello che è successo noi dobbiamo analizzare le conseguenze cioè la scomparsa di Sadr cosa provocò? e allora la scomparsa di Sadr alla vigilia della rivoluzione iraniana in un momento di grande tensione tra gli shiri libanesi e i palestinesi qui crea un vuoto un vuoto insomma pesantissimo nello scacchiere medio orientale politico e anche ideologico cioè gli shiri libanesi ne escono indeboliti questo è matematico cioè il loro leader è quello riconosciuto quello anche conosciuto dagli altri stimato temuto se vogliamo ma comunque rispettato da tutti non c'è più sul fronte iraniano in questo caso all'interno tra i religiosi la posizione di Khomeini si rafforza perché se fino ad allora anche all'interno diciamo del clero shida c'era comunque un'altra figura di grande peso come quella di Sadr anche se non era nemmeno lui era in Iran come d'altra parte ricordiamoci che non c'era manco Khomeini in Iran in quell'epoca cioè parliamo del 31 agosto quindi all'epoca Khomeini è Anna Jaff è ancora in Iraq bello bello Anna Jaff prima ancora che poi lo Shah faccia l'errore di chiedere di erne l'espulsione al governo iracheno quindi erano entrambi due leader religiosi in esilio quindi questo va ripensato sempre e sicuramente la posizione di Khomeini si rafforza quindi in questa situazione attenzione a un altro fatto le due le due conseguenze sono intimamente legate tra di loro perché anni dopo pochi anni dopo Hezbollah nasce e nasce su sponsorizzazione modello spinta iraniana e iraniana della Repubblica Islamica perché non c'è più Sadr cioè quel modello che lui aveva proposto lui non c'è più quindi si rafforza l'idea è che la causa dei cili libanesi possa essere sostenuta soltanto seguendo il modello che in quel frangente in quel momento storico risulta vincente cioè quello della rivoluzione che la rivoluzione ha vinto cioè ricordiamoci sempre questo cerchiamo di vedere il tutto con gli occhi diciamo contemporanei di quello che sta accadendo quando la rivoluzione vince uno dei primi ad andare a visitare Khomeini sarà proprio Arafat ma sarà una visita pure abbastanza strana perché lo slogan è oggi l'Iran domani la Palestina ma Arafat fa anche un gioco sporco perché rimane poche ore a Teheran poi se ne va subito giù nel Kuzestan dove apre un consolato palestinese e dove fa un discorso molto come dire panarabista cioè nel senso ricordiamoci sempre che poi dopo quando scoppia la guerra tra Iran e Iraq Arafat sarà consa danno ecco rimettiamo insieme i pezzi e in tutte queste questo grande scacchiere anche questa grande ragnatela di personaggi di fatti di date i fatti sono questi l'eredità qui siamo per concludere questo discorso oggi è ancora ricordato un personaggio importante della comunità libanese sciita e la sua eredità è venerata sia dai seguaci di Amal che da quei di Hezbollah per molti è un martire cioè rimane scomparso quindi si lega ovviamente anche a tutta la mistica sciita tanto che addirittura in alcune zone del Libano è popolare imitare il suo accento persiano ricordiamo sempre lui comunque era nato in Iran quindi il suo arabo aveva comunque un accento persiano e rimane comunque il partito della madre rimane un'importante organizzazione sciita in Libano e guarda sempre Alzandre come il suo fondatore da leggere eccolo qui il libro che vi dicevo le religioni al servizio dell'essere umano tra l'autore e quello che è Mirko Colleoni tutta l'energia dell'essere umano così come l'energia di tutti gli esseri umani devono essere preservate e sviluppate e questo è il suo libro un appendice va ricordata va dedicata pure perché il nome sicuramente ci dice anche qualche altra cosa è perché noi conosciamo Muqtad al Sadr l'abbiamo conosciuto soprattutto come dire una quindicina di anni fa quasi una ventina oramai di anni fa quando dopo l'invasione americana dell'Iraq abbiamo cominciato a sentire parlare delle milizie scelte di questo Sadr e di tutto il suo grande attivismo poi dopo anche il suo rapporto conflittuale molto contrastante con l'Iran prima di amicizia poi di contrasto poi di guerra aperta eccetera eccetera comunque la famiglia è quella lui è un cugino di Musa al Sadr il padre di Muqtada Muhammad Sadik al Sadr era stato un importante agli arolascita che viene ucciso nel 99 su ordine di Saddam Hussein la popolarità di Muqtada al Sadr il personaggio poi anche molto criticato per alcuni anche abbastanza folle in alcuni suoi atteggiamenti si basa anche sulla popolarità sul carisma di suo suocero che era Muhammad Baghi al Sadr che era il fondatore del partito di Iwa partito sciita iracheno che venne giustiziato dalle autorità irachene nel 1980 se voi ricorderete particolare un po' magabro quando Saddam Hussein viene impiccato se non sbaglio nel 2004 una delle persone che diciamo che l'accompagna al patibolo è proprio uno dei figli o comunque è come una sorta di vendetta della famiglia appunto al Sadr quella del suocero appunto di Muqtada al Sadr che comunque è un personaggio di quando si parla di politica in Iraq è impossibile non parlarne quindi vedete tre paesi Iran Iraq e Libano con un finale misterioso tragico in Libia però questo filone di una grande famiglia di religiosi sciiti che attraversa questi tre paesi questo era il tutto